salve a tutti e benvenuti su manga forever ci troviamo qui allo stand panini disney durante il napoli comicon 2018 per festeggiare i vent'anni della fiera insieme a lorenzo pastrovicchio ciao buongiorno a tutti allora non solo i vent'anni della fiera stiamo festeggiando in questi giorni ma anche i dieci anni di un personaggio disney che è double duck ovvero l'alter ego di paperino al quale allo stesso pastrovicchio ha collaborato nelle edizioni precedenti ci vuoi raccontare un po come hai lavorato con questa nuova versione di paperino ma guarda diciamo che double duck ha più o meno lo stesso taglio avventuroso di pk no solamente appunto la diciamo il formato poi inutascabile e obbligava a certi tipi di inquadrature però io mi sono trovato subito bene un po perché sapevo che poi la colorazione molto bella sarebbe stata curata dello stesso max monteduro che curava anche pk e in più essendo che ero un po di giuno da pk perché c'era un po di tempo che non lo facevo l'ho utilizzato un po double duck per divertirmi un po allo stesso modo tanto è sempre fa parte un po sempre del di un alter ego di paperino fin dal 1997 giusto sei stato comunque uno degli autori fissi di della serie pk recentemente insieme a francesco artibani avete appunto ripreso la nuova serie pk new era con le nuove saghe le tra le più le più recenti marchio di moldrock e l'orizzonte degli eventi come è stato passare da un formato come quello appunto delle serie precedenti altascabile essere comunque pubblicati sul sul magazine settimanalmente beh ci sono diverse difficoltà la prima che abbiamo dovuto affrontare è stata ovviamente il fatto appunto della riduzione di formato e mantenere la stessa legibilità e anche la stessa dinamica perché pk di per sé un fumetto molto più adrenalinico e dinamico e quindi si alternavano tavole magari quotidiane cittadine dove le inquadrature la regia la narrazione seguiva un po quello che erano le classiche vignette di topolino per passare poi l'azione e quindi la ci divertiva un po di più diciamo che comunque la gabbia cioè la composizione delle vignette nella tavola su il pk di topolino è comunque diversa rispetto a quella degli anni 90 ma proprio perché era figlia di un altro periodo quella degli anni 90 un po era un formato più grande ma un po ci si rifletteva nei fumetti americani di quell'epoca no che potevano essere marvel come i maze comics dove la gabbia esplodeva da tutte le parti le vignette non avevano un senso di lettura particolare era un po l'effetto che volevamo ricreare all'epoca adesso su topolino anche rivedendo un po il tipo di target che con cui ci si confronta è ovvio che la lettura deve essere in qualche modo facilitata no e quindi si seguono i cerco quanto meno di seguire la classica lettura a vignette conseguenziali senza andare a fare cose un po troppo retro come all'epoca no e per il resto poi la difficoltà ulteriore che c'è stata data è che poi vengono ristampati in grande quindi tu lo studi per il piccolo però poi sai che in qualche modo andrà sviluppato in grande e allora lì quella è una sfida mia personale perché cerco di rimanere molto pulito nel tratto però cercando comunque di non mancare nei dettagli sapendo dopo che nel formato grande verranno apprezzati maggiormente no e lo stesso max monteduro quando va a colorare sa che dopo il formato deluxe comporterà una maggiore osservazione da parte del lettore anche nella colorazione dettaglio e quindi ci premuriamo prima di fare un lavoro in più anche se sappiamo che va in piccolo nella prima produzione per quanto che rende molto preziosa il tutto e poi quando viene stampato nel deluxe lì si esprime al massimo infatti questi appunto questi formati grandi adesso si possono trovare completi qui al napoli comic con e parliamo anche del dell'ultima saga dell'ultima parte l'orizzonte degli eventi eccolo qua stupendo veramente il finale è stato lasciato leggermente aperto quindi questo significa che ci sarà un seguito beh sì come sempre con francesco ci teniamo abbiamo tenuto a chiudere un ciclo importante che di per sé potremmo anche lasciare come punto ai tempi indeterminato perché comunque quello che c'era da raccontare è stato raccontato però abbiamo in realtà già il progetto avviato per il prossimo anno e quindi così non è quindi quello che è rimasto aperto verrà verrà aperto maggiormente verrà spiegato meglio a tutti quanti noi abbiamo già tutto in mente abbastanza chiaro a grandi linee non abbiamo ancora scritto un soggetto però ne abbiamo parlato veramente già tanto e quindi questo sarà anche causa discussione e tra un paio d'ore dovremo un incontro con tutti gli autori disney panini e penso a quella dell'elettrice valentina del poli si parlerà anche di pk di futuro di pk non finirà mai ma io ci spero perché mi diverto un sacco a farlo quindi se magari lo posso non sarò io sarò qualcun altro ma essendo ancora relativamente giovane giovane togliamo relativamente relativamente in questo caso grazie per averlo sottolineato una domanda un po' particolare visto che personalmente mi interessa molto l'analisi stilistica delle donne che fanno tutti quanti gli autori dei vari personaggi femminili quindi volevo chiederti in questo caso come sono la tua e la lei e la tua che che è il capo ma diciamo che è forse un po' il punto in cui faccio un po' più fatica perché rendere femminili delle eroine è la cosa più difficile soprattutto da un punto di vista maschile e adesso con la mia nuova compagna fidanzata già da persino 8 ho un punto di vista molto femminile e molto critico e quindi mi risulta difficile farle perché poi lei mi dice sempre ma il vostro punto di vista maschile fa vedere le donne in un certo modo quindi è veramente difficile credo che per tutti noi disegnatori lo sia per me in particolare forse anche perché sono più portato per certi personaggi un po' più muscolari quindi devo usarmi un po' violenza per ingentilire certi personaggi parliamo anche di un altro personaggio che se non ricordo male gli hai dato la genesi tu il nuovo macchia nera della saga di Darkblot da dove è nato? eh quella è un'idea che avevo da un po' di tempo anche perché tanti cattivi sono stati sviluppati in Disney da gamba di legno ad altri e a volte sono stati un po' troppo ingentiliti rispetto magari a quello che erano negli anni 40 quando erano nel pieno del loro fulgore nel golden age del fumetto americano infatti ricordiamo che è già macchia nera della versione cattiva di Walt Disney eh esatto esatto è rendato ancora più cattivo in questo caso quindi io più che altro volevo approfondirlo mantenere la sua cattiveria intatta no? da quel proprio macchia nera che è e quindi avevo cominciato a studiarlo in parte graficamente proprio per richiamare un po' quello stile che poi è la cosa che a noi disegnatori piace di più no? ogni tanto cerchi dei riferimenti cerchi di rinnovare nella tradizione anche perché comunque parliamo di personaggi che hanno veramente tanti tanti anni di storia sulle spalle è giusto dare una proprio impronta però sempre girando intorno a quella che è la matrice originaria no? e dopodiché ho trovato l'appoggio valido di Casti che è un sceneggiatore diciamo polivalente si è dimostrato oltre a creare storie umoristiche e avventurose ho voluto buttarsi anche in questa avventura con me e quindi abbiamo proposto una fantascienza non troppo come dire lontana o distante da quelli che sono i giorni nostri e quindi tutta la ricerca nostra sulle tecnologie è basata su quello che puoi trovare anche nella rete no? e cose che magari un po' di anni fa per esempio nella prima storia di Arkham Lot avevamo messo i droni ed erano appena se ne parlava ancora invece adesso con i droni ci giochi quindi siamo stati molto attenti a spostare di poco in avanti la lancetta in maniera da renderle più credibile il tutto e Macchia Nera si è accompagnato di questo Darkham Lot questo esoscheletro minaccioso con cui lui compieva rapine e per me il divertimento era che in ogni nuova saga ne inventavo uno diverso perché comunque non era per quanto desse il nome alla serie non era lui importante l'ososcheletro l'importante era l'avventura che viveva Macchia Nera e soprattutto Topolino un Topolino molto più umano di quello che magari ci saremmo potuti aspettare in un'avventura del genere perché non è PK non è Paperino che diventa PK ma è Topolino che resta Topolino anche in dei frangenti super ecco proprio di questo ti volevo fare un'ultima domanda ci sarà mai un crossover tra la saga di Darkham Lot e quella di PK? non sei la prima che me lo chiede ma credo che per adesso attualmente no magari farò io qualche illustrazione per conto mio più avanti però sono due mondi difficilmente conciliabili certo nei sogni di ognuno questi super personaggi ci starebbero pure bene ma chissà non mettiamo limiti alla provvidenza speriamo perché comunque il crossover tra papiri e topi sono sempre ben accettati certo certo